Roma 6 ottobre La Presidente della Regione Lazio Renata Polverini in bocca al leader del Carroccio Umberto Bossi una bella forchettata di rigatoni con la paiata, tipico piatto della tradizione romana per chiudere lo scontro tra leghisti e romani mentre il Sindaco della Capitale Gianni Alemanno addenta soddisfatto una porzione di polenta col formaggio davanti a Montecitorio il banchetto riconciliatore Renata Valese, Malpare, Siciliano Allora è una patatea è una patatea, rispetto del cibo e della Costruzione di Nuova Italia Unita e Federale